No, il tempo è molto buono, le sensazioni erano proprio molto faticate dal primo ritmo metro quindi diciamo che in realtà è uscito anche con queste sensazioni un tempo molto buono quindi sono contenta, comunque ci eravamo prefissati di fare più o meno quello che avevo fatto degli assoluti poi se veniva meno, meglio ancora, se veniva di più, pazienza, siamo usciti da poco dall'altura quindi ancora c'è il periodo qui, sono un po' affaticata ecco Se dovessi definire questa nuova gara come un aggettivo, la vedi solida insomma è una gara comunque abbastanza di continuità rispetto a quello che dicevi, tu è una solida cioè non c'è il picco, chiaramente per la stagione, per la fase della stagione però adesso è sembrata un mondo solido Sì, sì, c'è diciamo una costanza che riesco, che sono riuscita a mantenere da... che mantengo già da un po' divisi, comunque allo stesso tempo l'ho fatto ad aprire dagli assoluti quindi questo comunque è una cosa molto buona Tu, 32 anni in zona hai preso tre qualificazioni, quindi 100-400-1005 che effetto fa essere comunque una volontà di diamante a questo punto che la squadra è già qualificata con tutti gli stessi Beh, diciamo bello perché tutta la prima volta che mi valido anche nel 400 che in realtà probabilmente non farò perché viene più valutato che mi decido però comunque fa sempre un incerto effetto, adesso vediamo e vediamo cosa riusciamo a fare Esatto, quali sono le tue aspettative? Vediamo Sì, io arrivo lì e vedo